Il nuovo cartellone per il Teatro Aldo Giuffrè del direttore artistico Vito Cesaro prevede sette spettacoli in abbonamento e una mini rassegna composta da tre appuntamenti dedicate al teatro di impegno civile e dal balletto. Si comincia il 9 novembre nell'assegno della tradizione e delle grandi tragedie, con Vanessa Gravina in Didonis Fabola, uno spettacolo ispirato al teatro classico in cui si narra della fatale passione di Didone per Enea. Il 22 dicembre sarà la volta della comicità partenopea di Maurizio Casagrande che porta in scena Mostri a parte. Poi gli altri spettacoli fino a 4 maggio ma da segnare la data del 13 aprile con la star internazionale Paolo Nani che nell'unica tappa al sud del suo tour 2018-2019 porterà in scena a battipaglia la lettera spettacolo che da 26 anni viene riprodotto in tutto il mondo con all'attivo oltre 1200 repliche. Grazie a tutti.